Siamo nel pieno d'autunno e questo significa solo una cosa, è tornata la Master League, carissimi amici dei tornei Arendt, questa è la voce di Leonardo Zullo, in campo si incontrano per la prima giornata del torneo, il Napoli Creators contro il Barcellona, diamo uno sguardo Ai Ai Lights Va via Oliva sulla sinistra, insiste sulla corsia, può mettere anche al centro, c'è l'arrivo di Fusco, palla che finisce però sul fondo, Crispo a centrocampo, supera l'avversario con il dribbling, però prova ad accentrarsi, vince il rimpallo, entra in ore di rigore, il tiro dal limite, la palla fuoriesce di pochissimo, altra chance per il Napoli Creators, Oliva, palla al centro, Crispo, larga sulla sinistra, buona l'iniziativa, il pallone dentro, il cross di testa, Fusco, palla sul fondo, incredibile palla, gol per Fius, che però si divora la rete del vantaggio, Galletti, lungo linea sulla sinistra, una rimessa laterale per il Barcellona, quindi una chance per il Blaugrana per avanzare, la rimessa viene battuta, attenzione alla possibilità per questo destro, che però termina sul fondo, altra occasione per il Napoli Creators con Fius, il corner per chianese che si coordina, schiaccia, la palla però supera la traversa, Giannace, il cross diventa un tiro, ci ha provato Giannace dalla distanza, a impenserire Di Martino, punizione per il Napoli Creators dal limite, questa è una grandissima occasione, vediamo come la sfrutta il Napoli, Oliva carica il destro, e la super parata di Di Martino, che salva la propria porta, incredibile colpo distinto, calcio d'angolo, attenzione a Crispo, sul secondo palo, non fallisce, la porta era sguarnita per l'uscita di Di Martino, che si era superato in precedenza, la rete del 1-0 di Crispo, Giannace, pala dentro, Fius di tacco, alza questo pallone difficile per Crispo, che però riesce comunque ad allargare il tentativo, poi termina sul fondo, Napoli Creators pericolosissimo, rimessa laterale, pala dentro, rispinta la difesa azzurra, attenzione a Forte, però il sinistro è debole, centrale, il Barcellona è vivo, si fa vedere, altro corner per gli azzurri, questa volta c'è il tocco curto, quindi la possibilità per andare con un cross, vediamo se calciano, palla dentro, bella azione, Crispo tenta il destro, e la palla scivola sul fondo, ben congegnata però questa manovra dal corner, pressing del Napoli Creators, attenzione a Crispo, il palo, si dispera Crispo, altra manovra, lancio lungo di Chianese con il mancino a cercare Crispo che aggancia, può fare la sponda per Oliva, che calcia con il destro e batte di Martino, Napoli Creators 2, Barcellona 0, dominio totale degli azzurri. Chianese, con il destro, a cambiare gioco sull'altra fascia, rischia però di perdere il pallone, infatti il Barcellona prova a farsi vedere con questo sinistro che va sul fondo, l'affondo sulla destra, il cross per Mirko Fusco, vuoi la sponda, costa, super parata di Di Martino, incredibile, guardiamo il replay, ma cosa ha fatto? Buono il recupero di Fusco, sulla sinistra riesce a servire anche Mirko, bella l'apertura dall'altra parte dove c'è Costa, punta l'avversario, ancora il suo Costa, la respinta di Di Martino, spazza via la difesa e si salva, poi il destraccio, palla sul fondo, ma altra azione interessante del Napoli Creators, Damore, riceve il centrocampo, punta la difesa avversaria, calcia dalla distanza, blocca il portiere, Oliva, aggancia con il destro, entra in area di rigore, mette il pallone dentro, incredibile, palla con sprecata di Fusco, si divora il gol del 3-0, Costa, riesce ad anticipare l'avversario, poi va col destro, Fusco dentro l'area, a due passi, il gran parata del portiere, e poi Antonio Fusco riesce a correggere l'errore del compagno e fa 3-0, delirio sulla panchina azzurra per il 3-0 firmato da Fusco, Damore in area di rigore, carica a destro la parata di Picardi che mette in corner e salva il clean sheet, attenzione al contropiede del Napoli Creators, è un 3 contro 1, attenzione si va per il poker, la possibilità con Fusco sulla sinistra che entra in area di rigore e va col destro la parata, Lili Martino si supera anche in questa situazione, clamoroso, sono saltati tutti gli schemi, Fusco dentro per Costa che cerca il gol e viene rispinto il suo destro e quindi Oliva può rimetterla dentro, sempre lui, sempre Enzo Costa, carica il destro e la rete, la rete del 4-0 per l'arbitro finisce così, vince il Napoli Creators!